Il nuovo presidente del Conservatorio Pollini di Padova è Flavio Zanonato, ex sindaco della Città del Santo, ex ministro dello sviluppo economico durante il governo Letta ed ex europarlamentare. Questo nuovo incarico gli è stato affidato direttamente dalla ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. Zanonato succede a Gian Battista Casellati, marito dell'attuale ministra delle riforme ed ex presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per il Pollini si apre dunque una nuova stagione all'insegna anche di un'importante opera di sistemazione che l'amministrazione comunale sta portando avanti grazie ai fondi messi a disposizione della Fondazione Cariparo che ha annunciato il restauro dell'auditorium che dovrebbe essere pronto entro il 2027.